Buongiorno a tutti, ci troviamo all'antistadio del comunale di Montemarconi, quarta giornata del campionato provinciale giovanissimi, Girone e Chieti, oggi si apronteranno la Val di Sangro squadra B e la Virtus Castelfrentano qua in fondo, la Val di Sangro con la classica maglia bianco-azzur, mentre i nostri ragazzi della Virtus Castelfrentano con la classica maglia giallorossa, questa gara non fa classifica, pertanto il risultato non conta ai fini della classifica, la squadra che il mister Giovanni Di Giulio farà scendere in campo è una squadra rimaneggiata proprio per l'occasione, ci sono metà titolari che mancano, due di loro ieri hanno giocato con gli allievi ieri sera in notturna a Miglianico, sarebbe il nostro con i Berti Lorenzo e Riccardo del Bello, ci sono delle defezioni questa mattina, manca metà titolari, qualcuno acciaccato, qualcuno ammalato, come si sta facendo le fasi di riscaldamento, gli esercizi, c'è anche i portieri sotto, anche il direttore di gara si riscalda, in fondo ci sono i ragazzi sempre gli esercizi di riscaldamento della Valtisancro, squadra B, c'è l'arbitro della sezione AIA di Lanciano, una bella giornata di sole, temperatura gradevole, i nostri ragazzi si stanno effettuando il riscaldamento.